Chiamerei sul palco Rodolfo González Greco, un attivista urbano argentino e contadino. È un militante del Movimento Nazionale Contadino e Indigeno dell'Argentina. È anche membro del Segretarato Internazionale del CLOC, la Via Campesina. Attualmente fa parte della Segreteria Operativa dell'Alleanza per la Sovranità Alimentare in America Latina e Caraibi. Benvenuto. Buonas tardes a tutti e a tutti. Come dicevo il compagno, mi nome è Rodolfo González Greco. Io sono di Argentina, della CLOC, la coordinadora di organizzazioni del campo di Latinoamérica e del Caribe. Che è parte della Via Campesina. Bueno, un poco, noi come Via Campesina abbiamo grandi energeti, però una grande fuerza che noi abbiamo, è che facciamo proposti teori che nacen di nostri basi e le posiamo in marcha. Come una organizzazione che fa lo che propone e va trasformando la proposta nel hacer. Quindi io mi vorrei a parare da questo punto per fare la intervenzione in quanto al cambio del sistema alimentario. Io mi vorrei a parare in lo che facciamo come Club Via Campesina e con alcuni esempi che sono nostri di Argentina. In primer lugar, io vorrei commentare che noi abbiamo diverse campagne globali e locali che facilitano il cambio del sistema alimentario. Uno tiene che vero con il basta della violenza a la mujer, l'altra è la campagna contro i agrotòxicos e in pos di una vita digna. L'altra è la campagna global per la soberanà alimentare, per la reforma agraria, e l'altra è la campagna di solidarietà permanente. Queste, queste istanze di campagna sono per noi importanti perché le facciamo a livello global e le facciamo con molti aliados. Sono forme di mostrare le nostre luchas, di mettere un freno al avance di un sistema agroalimentario a gran escala e di denunciare e di propone. Per esempio, per esempio, per esempio, la campagna di solidarietà permanente. Nosotros tenemos, oggi in Dia, in Latinoamérica, un paese come Paraguay che supo tener il 80% della popolazione campesina. e hace un tempo attrazi, un processo di acaparamento di terra molto forte, in cui il numero di 80% della popolazione campesina è cambiato. E i campesini oggi in Dia emigrarono a le grandi città. Per esempio, in Argentina, i campesini che prima producìan alimento sano e di qualità, oggi construyen la casa e i edifici di la gente più rica del paese. Con lo quali, ci stanno impugando a una situazione in cui cada vez meno produttori vamos a tener, cada vez va a haber più gente in le città e la produzione va a quedar in pocas mani. Questo è il modello che già lo conosciamo. No se lo vamos a permitir, ovviamente. siamo noi per difendere il modello di la soberanze alimentare. E abbiamo forza, così non lo vanno a lograr. Come secondo punto, voglio remarcare anche che abbiamo una gran fuerza di mobilizzazione, soprattutto in Latinoamérica. In la mobilizzazione noi denunciamo qualche atropello a los derechos humanos, al derecho campesino. e realmente abbiamo potuto torcer molto, molto, molto desbalance, con i colleghi in la calle, mobilizzati e defendendo la vita, la vita campesina. E altro punto, le mobilizzazioni ovviamente sono di sensibilizzazione e concientizzazione. Noi, noi facciamo mobilizzazioni in cui intentiamo che la gente, noi diciamo che il pubblico che si usa, che si usa la lucha. Quindi, sempre le pediamo a la gente che sta ascoltando e vedendo che si informe, che si usa la lucha e che si tiene buoni risultato. E poi abbiamo una serie di eventi, come paneli, che solemo fare in le caratteristiche di università, sono exposizioni di problemàtica, di nostra vita, sono exposizioni di sensibilizzazione e concientizzazione, in cui discutiamo il daño economico e la salute che generano i agronegocii. Come contrapunto di quello che si suele insegnare in le università, che il sistema agroalimentario transnanzale è la salita per il hambre nel mondo. Noi, noi diamo un altro contrapunto a questo e sappiamo che le università in generale formano a l'ossocchi, o a l'ossocchi o a l'ossocchi o a l'ossocchi, 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 o a l'ossocchi o a l'ossocchi o a l'assocchi o-usca, per avere empleato per i grandi transnanzali. Quindi noi ci stiamo in le università come una strategia e funziona molto bene. E, per esempio, per nombrare, in Latinoamérica abbiamo diversi cattedras di sovrania alimentare, dove sono espacios in cui si può comprare e riflessione sulle nostre luchature e sulle un modello possibile per alimentare al mondo che gli insegnanti in le università. Otro punto che voglio marcare, che io credo che è nostra maggior fortalezza come via campesina in tutto il mondo, è che noi abbiamo mille e mille di compagniere campesino e campesina in il mondo e in le comuni, producendo alimentare. Ci siamo territorializzati, ci siamo in tutti gli altri, ci sono pressione sul territorio, ma noi seguiamo stando e luchando e abbiamo realmente una tecnologia, è nostra tecnologia, è una tecnologia ancestral, indigina e anche è una tecnologia che noi combiniamo con tecnologie più avanzata, perché anche creiamo che hai che sviluppare, però sempre e quando il sviluppo sia per noi e da noi, creiamo che il campesino tiene molto sabere e che deve essere ascoltato a la hora di innovare. ovviamente noi produciamo alimento di qualità, sano, con nutrienti, il nostro alimento se pudre in le gondola, non è il alimento che non si pudre mai, però che non ha nulla, è un alimento che nutre, che fa bene. Il secondo punto che volevo marcar come strategia per cambiare il modello di alimentazione, è il tema del mercato, abbiamo in Latinoamérica e nel mondo anche moltiplicità di esperienze di mercati, mercati, mercati locali, mercati comunali, mercati in la calle, mercati populari, mercati municipali, abbiamo una strategia diversa di vendere il nostro prodotto, però non solo come una mercantia, ma come un prodotto che ha tutto questo, che ha la salute dietro, che ha la luce per la terra, che ha la luce per i diritti, che ha la luce per i nostri, conquistati, e che ha un alimento di qualità. Noi combiniamo con il nostro alimento questo, mostrar la luce, nostra luce se ve a través di lo che noi facciamo, di lo che produciamo e commercializziamo. però anche abbiamo altre strategie come la vendita directa al consumidor, canastas semanali, mensuali o quincenali. in Argentina abbiamo... se chiamano redes di commercio justi, che sono create per i consumitori, in cui noi articuliamo con i consumitori. le consumitori organizano per fare una compra, soprattutto, di alimenti non perecedori, come mermelada o escabeches o quesos, tutto lo che non si pudre. e la strategia con elles è che se genera lo stesso, che se genera una concientizzazione non solamente nella questione della sanità del prodotto, ma anche in lo che è dietro di questo prodotto che è la luce. Quindi con queste redi organiziamo charlie, conversazioni, in fin, i consumitori conoscono lo che è dietro di questo, che non è solamente un alimento buono, non è un sello, si no, hai una lucha detrás e se lo facciamo llegar a i consumitori. Un esempio che vorrei mettere, lo vorrei dire molto corto, in quanto a i mercati, in Argentina, hace uno o due anni, una speculazione tremenda di le poche grandi empresas che vendono alimento nelle grandi ciudate, e il alimento subiu su prezzo inexplicablemente, non è basato in un dato real, sino che era una pura especulazione. Nosotros tenemos carnicerias en los pueblos, soprattutto perché è più senso di vendere la carne nostra che produciamo, e in uno dei pueblosi, in Santiago del Estero, ricordo che come non tenia sustento real in la suba especulativa di precios, noi pudimos mantenere un prezzo, un prezzo popular di carne. E, ovviamente, fuimos generadores di precios, ovviamente, le carnicerias nos querían matar, hubo un problema, però noi pudimos fijare un prezzo. Quindi, il campesino non especula con il prezzo del alimento, il campesino non ha una forma di produzione e vedere la produzione, e questo hai che vedere, perché oggi nel mondo, e in Argentina, credo che hai 50 empresas che controllano con tutti gli alimenti che arrivano a grandi cittàni, per lo cui, siamo molto vicini della soberania in grandi cittàni. In qualche momento, possono fare loro i suoi negozi e fare lo che vogliono con i prezzi. altro punto che per noi è quasi central che è la formazione di i giovani, è quasi central perché noi sappiamo che lo che vanno a quedare sono i giovani quindi abbiamo che formarsi non solo tecnicamente ma politicamente per affrontare le diverse e le nuove strategie che hanno i grandi negociatori e le grandi le grandi le grandi le grandi le grandi le grandi le agro noi come via campesina abbiamo diversi istituti di agroecologia nel mondo in latinoamérica abbiamo molti istituti di agroecologia anche in tutto il continente e specificamente in Argentina che è il mio paese noi abbiamo abbiamo 5 scuole di agroecologia a nivel primario e secundario e siamo creando una università campesina che st st terminando armare le curriche ma è in processo armato che sempre ovviamente armare una università campesina è più costoso che armare un altro tipo di università perché è tutto è tutto è tutto questa nostra noi lo interessante delle scuole è che hanno una metodologia pedagogica che la idea è che i raggiungi a la terra e che non si vanno perché lo che suele succedere è che i raggiungi per accedere a una scuola secundaria nel campo si hanno che ir a un pollo quindi una settimana intensiva in la scuola teòrica e tre settimane in su chacra in su campo haciendo la teoria quindi tra esa teoria e esa pratica se va retroalimentando quindi la teoria se nutre della pratica che è la pratica campesina quindi se le da una volta molto interessante a la formazione e eso hace que los jóvenes hoy en día los jóvenes en campo argentina podemos decir que están y que se están quedando cada vez los agronegocios que genera 10 fuentes de trabajo cada 100 hectáreas o sea multiplica la mano de obra en 10 y utiliza el 20% de los recursos de la tierra del agua y de la energía que usan los agronegocios bueno un poco con todo esto quise argumentar o exponer lo que nosotros hacemos en el territorio y que esto realmente es la práctica de lo que pensamos de lo que queremos como organización que es que queremos los derechos del campesino que queremos que los jóvenes se sigan quedando en el campo que queremos una producción sana queremos la soberanía alimentaria queremos un alimento para todo creemos que podemos alimentar a todo el mundo es falso que no hace poco tiempo lo hacíamos y lo hacemos de otra manera lo hacemos sin destruir los bosques el aire y el agua entonces bueno esta es la fortaleza que tenemos y lo quiero exponer porque realmente se puede y se puede y nosotros estamos avanzando avanzando para fortalecer esto así que muchas gracias gracias aplausos